Un momento di rabbia, il furto della sua auto proprio sotto gli occhi. Ed ecco l'inseguimento e lo sparo, tre o quattro colpi che hanno lasciato esanime uno dei delinquenti. È successo la scorsa notte all'Aquila, località Coppito. Un uomo del luogo ha visto improvvisamente partire la sua auto sotto casa. Il tempo di farmente locale ha inseguito i ladri che costretti a fermarsi in località Canzatessa sono stati presi a colpi di pistola. Uno dei ladri, un rumeno, 26enne, colpito da alcuni proiettili, non è riuscito a fuggire e si è accasciato nell'atrio di una palazzina. Attualmente è ricoverato in ospedale ma non correrebbe pericolo di vita. Il complice invece è riuscito a scappare ma potrebbe essere ferito a sua volta. L'auto Mitsubishi Pickup Rosso era stato abbandonato nel quartiere Canzatessa. Sull'episodio stanno indaganti i carabinieri. Il proprietario dell'auto è stato intanto fermato con l'accusa di tentato omicidio. La sua pistola risulta regolarmente denunciata.